Sindaco De Lucia, stamattina la visita del governatore al villaggio dei ragazzi, tutte le istituzioni cittadine fuori dal villaggio. Una procedura insolita per un momento istituzionale importante per la fondazione e per la città di Mandaloni. Sì, allora io intanto grazie per lo spazio. Brevissima la battuta, non vorrei parlare dell'ovvio. Le istituzioni si invitano, ma è sempre stato così, ma soprattutto è chiaro, evidente, ovvio che il sindaco della città vada invitato. Adesso io potrei rappresentare qualunque parte politica, ma in questo momento rappresento la città, sono istituzione. E soprattutto non è possibile che non ci siano gli eletti dalla città di Mandaloni a poter quantomeno ascoltare quelle che sono le proposte per una realtà che ha rappresentato da sempre la storia, una parte dell'anima di questa città stessa. Quindi trovo di pessimo gusto un atteggiamento del genere. Non so le ragioni, non so neanche di chi siano queste precise volontà. Ritengo però che lo spazio adeguato agli eletti vadano dato. Forse non è più di moda dare spazio a chi viene eletto, però qualcuno ci crede ancora. E poi si distinguono i momenti. C'è il momento della politica, il momento istituzionale. Ritengo che questo dovesse essere un momento istituzionale. E in realtà mi sembra di capire dagli invitati nella lista dei buoni e dei cattivi la fondazione Villaggio dei Ragazzi sia diventata un pezzo di una particolare configurazione geografica della regione. Qualcosa mi sfugge, non capisco. Dalle sue parole è evidente che lei ascrive ad una chiara volontà politica l'esclusione sua e del Consiglio Comunale di Maddaloni di questa mattina. Io non voglio arrivare a tanto, nel senso che spero che la politica, e sono convinta, che la politica abbia il senso di responsabilità. Vorrei, posso immaginare che sia stata una leggerezza, forse una leggerezza del cerimoniale, una leggerezza dell'ufficio di comunicazione, dell'ufficio stampa. Non lo so di chi è questa leggerezza, ma certamente è una leggerezza grave. Non voglio leggere nessun retropensiero, non voglio avere pregiudizi, perché sono una di quelle che in questi due anni ha cercato di combatterli sempre, pregiudizi, ne sono stata vittima, quindi non mi piacciono. Però una leggerezza che, se invece ha un legame politico, è assolutamente grave. Che cosa avrebbe chiesto se fosse stata lì al governatore De Luca? Che cosa intendono per piano industriale in una realtà in cui si fa istruzione, cultura e assistenza? La visita del presidente De Luca, la prima a Maddaloni, in maniera ufficiale, poteva essere utile anche per toccare un altro tema delicato per la città, cioè le bonifiche e le questioni ambientali. Ma in realtà, proprio sulle bonifiche, le questioni ambientali, sull'interporto, sul villaggio, io ho scritto al governatore De Luca almeno sei volte, sono agli atti. Ho chiesto incontri da quando ero commissario, da quando non ho smesso di essere commissario, ma evidentemente l'unico sindaco in questo momento in piedi, perché la maggior parte delle città della nostra provincia sono commissariate, della provincia di Caserta non viene ascoltato. È evidente l'attenzione che si dà a questa provincia. Prima si diceva napolicentrismo, oggi c'è forse un salernocentrismo. Forse. Io speravo che con un governatore che ha fatto il sindaco le cose potessero essere diverse, nonostante non fosse della mia parte politica, posto che anche rispetto alla mia parte politica ho tante cose da dire in negativo, cioè se dovessi fare un bilancio mi sento molto distante dalla mia parte politica. Ma al di là di questo, ritorno alla domanda, tra il Presidente del Consiglio e il Governatore della Regione Campania, in questo momento forse è meglio che i sindaci fanno i sindaci, e questo vale anche per me. Questo significa che rispetto al Governo regionale la città di Maddaloni avrà una posizione sicuramente non morbida? La città di Maddaloni vuole essere una città che parla con la Regione, che parla con i finanziamenti europei, se è in grado di farlo. Ma se ti chiedo di parlare e mi chiudi le porte, io non posso avere una linea morbida, perché ho la responsabilità di 40.000 abitanti, di 40.000 persone, di tante famiglie che aspettano risposte. Ora, se c'è un dialogo istituzionale, io sono pronta a fare l'applauso, se sei bravo ad ascoltarmi e a risolvere i problemi che ti espongo, ma se neanche c'è la possibilità di ascolto, e la possibilità di ascolto diventa opportunità politica di visibilità, e allora siamo tornati ai vecchi metodi, che ho sempre contestato, anche quando sono stati della mia parte politica. Grazie al Sindaco di Maddaloni, al prossimo appuntamento. Grazie a tutti voi.